è stato un incidente comunque sapete ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Daniele, oggi non siamo nel video del video ma oggi siamo nel video delle mie auto più importanti o anche come dire più fighe cominciamo dalla prima si trova in due cavalli, abbastanza bella qui si apre, che non voglio aprire perché fa mai ecco qui c'è il motore troppo fido tu si 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 puoi andare Obama abbiamo un vincitore che fa sbattere no stavo scherzando è solo una stupida ma ma è suo fratello si assomigliano a troppo sordarelli ok lui si apre lui intanto si chiama si apre ciao bello faccio vedere come se camminare si apre va bene lo farò per voi ragazzi camminerò no no si apre ho detto cammina Obama abbiamo un vincitore Obama Obama abbiamo un vincitore un altro vincitore una fiat una bella fiat una bella fiat moto è troppo fico vediamo se si riesce a vedere no non metti a fuoco tu puoi andare Obama abbiamo due scemi qua che fanno il peccato vabbè loro che come hanno ferato sono qua loro hanno visto e hanno visto vabbè verso vabbè vabbè è come una naba questa comunque Lamborghini Lamborghini un altro italiano ragazzi ragazzi Obama abbiamo un perdente è andato tutto bene così Obama è ancora vivo te te si oh lei è già un vincitore bello allora possiamo vedere qua quanto è fello non ha porte quindi non si apre hai capito e ti aspetta si apre vedete un finestrino stupido lui è forte comunque oggi c'è la nostra le nostre ferrarozze che andranno là ai uuuu pip ai e lei ha già finito lì lei va al parcheggio ragazzi si va bene al parcheggio allora ragazzi eeeh cosa si apre si è una spider comunque abbiamo capito capito ok lei apriti apriti sesamo apriti stefano non lo so si apre solo dopo vabbè abbiamo capito questa macchina inutile inutile no Obama abbiamo un vincitore abbiamo un vincitore questa è la vera il più finta del mondo guardate 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 o questo è brutto questo guardate guardate ragazzi 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 guardate guardate ragazzi guardate guardate vediamo se si mette a fuoco no però è bello si apre anche qua non è che non è bello eh no c'era prima lui lui stava stanco ragazzi è troppo ragazzi 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 che brutto sto temporale asciughiamoci gli stanno abbiamo un terzo cristallo uno ma che ce ne fai di una non lo so allora ragazzi tutti vanno là e tutti vanno là è il posto migliore per loro ora vai terzo signorino lui si può aprire si può vedere è blu e qua non si è appena dietro ma mi vai anche grazie lui beh si apre si apre corri sesamo corre lui è andato al parchetto lui è il grande lui è il più bello cioè ragazzi cioè guardate ma chi è che ha ste macchine non lo so io ma ma non lo so è la madonna ma non so nemmeno camminare segni according di vediamo questo sky non ha nulla vediamo le portiche le portiche vediamo questa portica bellissima vediamo il motorico è la madonna pure questo bellissimo faccio vedere vai faccio vedere chi sei e la madonna pure ma ragazzi puoi andare seconda posizione ragazzi devo concludere quel video spero che vi sia piaciuto lasciate like ricordatevi di iscrivervi iscrivetevi al canale poi lasciate bei commenti lasciate like e non dislike lasciate like e mi dite se avete un canale youtube e fate video ovviamente vi iscriveretevi e lascerò un like se vi volete trovare su minecraft beh basta che fate come che fate basta che ah il lip del mio del del server dove gioco ecco il lip del server dove gioco ravioli ragazzi ravioli ragazzi ravioli ragazzi sto perdendo non è cosa bellissima che ho pure paura da farvi vedere loro sono le mie moto anche se non mi piacciono tanto le moto però sono lo stesso bene facciamo prova di gara tomotina fai vedere chi sei e che sai fare moto bella sexy vediamo naba naba tu naba comunque ragazzi altra chiacchierata bella bella bilolalala altra chiacchierata allora ragazzi allora ehm sapete che stai mettendo un pezzo le macchie non lo fatevi più vabbè lasciamo stare a queste stupidaggie allora ragazzi ehm ricordatevi ve lo li dico beh ricordatevi di non metterli in like sennò mi fate rimanere qua se avete un canale youtube lasciate like e vi scrivi e vi scrivi e vi scrivo e lascio like come processo che avete fatto voi al mio canale ovviamente lasciate anche commenti ovviamente anche belli ricordatevi che teone è è un bambino poi ehm ricordiamoci vabbè abbiamo capito ragazzi ricordatevi ehm trovatevi su creativa il mio nome può anche essere springtrap springtrap ehm cose che si chiamano ehm in quello ho anche dei famori ehm jesson v v o r h e e s spero spero spero